Il palazzo comunale è davanti al palazzo comunale per sensibilizzare la cittadinanza sulla forte preoccupazione dei lavoratori, degli talcementi della sede centrale che vedono il loro futuro a rischio. A fine luglio c'è stata uscita la notizia che Italcementi Group ha venduto le sue quote a una società tedesca, la Heidelberg Sement, che ha dichiarato fin da subito che non ha nessuna intenzione di tenere due sedi centrali. Quindi qua a Bergamo ci sono 800 lavoratori, 700 che lavorano in sede centrale e un centinaio che lavorano al centro di ricerca. Abbiamo attivato fin da subito il Ministero dello Sviluppo Economico che è l'unico che in questo momento può parlare con i tedeschi e farsi illustrare il piano industriale. Oltre a questa iniziativa noi venerdì faremo un'assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza e lavorare del talcementi a tutta la politica. Abbiamo fatto delle nostre proposte per salvare i posti di lavoro, ossia che Bergamo, l'Italia, abbia ancora un ruolo centrale come gestore dell'area mediterranea di Heidelberg e che venga valorizzato il centro di ricerca che oggi è il centro di ricerca mondiale di talcementi. Questo permetterebbe di salvare posti di lavoro ma soprattutto le professionalità che in questi 150 anni di storia di talcementi hanno reso grande l'azienda. Mi chiamo Fabio Paris e sono un dipendente della cimenteria di Calusco d'Adda. Oggi sono qui a manifestare in questo presidio assieme ai miei colleghi della sede centrale perché il problema e la preoccupazione non è solo dei colleghi della sede ma è un problema e una preoccupazione per tutte le cimenterie italiane. Noi ci stiamo muovendo perché vogliamo certezze per il nostro futuro, vogliamo la sicurezza del nostro posto di lavoro, vogliamo capire un attimino un po' anche con la nuova dirigenza dove vogliono arrivare. Noi abbiamo contribuito in questi anni a portare dove oggi Calcementi, leader mondiale e non vogliamo che questo patrimonio venga disperso e soprattutto venga pagato sulla pelle dei lavoratori. Noi abbiamo contribuito in questi anni a portare il nostro posto di lavoro.